è caduto qua non ho capito cosa ho fatto lui l'ha fatto giusto è troppo corto e ma perché gli dai ma dopo la lasci andare giù subito dagli un pelo di più e poi esci perché anche lui è ricco la gomma è giusta perché gli dai poco sotto scivola perché sia lui che cosa l'ha fatto ma lo alza di più e fanno quello il sesso della galleria però scivola è scivoloso perché tu gli dai il colpo prima attacchi e poi ti scivola no no anche a lui gli è scivolato anche a lui perché loro la alzano vogliono uscire col davanti oh bravo e perché non cerchi di copiare ancora è troppo lento no neanche lui spampi non lo fa spampi facci vedere perché l'ha appoggiata no la nostra dovrebbe attaccare perché ti attacca bravo adesso ve li no io ho paura carino